Questa è l'ADAM benissimo è 9α4QV da IK7 Unite Forma X-Ray Whiskey perfetto arrivi molto bene segnale reale intorno al 7678 non sei molto stabile in frequenza però non ci sono grossi problemi 659 012 in JN80 X-Ray Papa Brindisi QSL QSL Prefetto JN80 X-Ray Papa Brindisi come ho detto tu sei 59 001 001 Giuliet Napoli 75 Bravo America 75 Bravo America Adam Pluto e questa antennina PCB da UWA 5 Victor Giuliet Bravo questo è tutto arrivi molto forte cambio QSL perfetto Adam io le mie condizioni sono sempre le stesse parabola da 2 metri e 4 su a 15 metri di altezza e 500 600 watt sul feed queste le condizioni QSL 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 QSL